Terza legge in assoluto è quella del focalizzarsi su un solo obiettivo, su un solo business. Prima raggiungi determinati traguardi, focus su una singola cosa e poi inizi ad occuparti anche eventualmente di altro. Noi quest'anno abbiamo fatto il botto, abbiamo iniziato ad aprire aziende sull'immobiliare, abbiamo iniziato ad aprire dei cash co-channel che fanno milioni di views e generano veramente centinaia di migliaia di euro all'anno. E abbiamo aperto molteplici aziende, ma prima io, quando sono partito, quando ho iniziato, mi sono focalizzato per anni su una sola determinata cosa. Non mi sono fatto ad abbagliare dalle pubblicità ad altre persone, questo perché? Perché non avevo i soldi. E con questo ci colleghiamo alla legge numero 4. Elimina i social network, elimina tutta la fonte di dopamina chip, tutta quella roba c'è lì. Quando io ho iniziato, non avevo neanche il mio profilo Instagram personale. Il profilo Luca Valori non esisteva. Ero logato in profili dove mi generavano dei soldi. Chi mi conosce da tanto lo sa anche. Ma non stavo lì con profilo personale a scrollare le amichette, le robe, eccetera. Ero full focus. Oggigiorno c'è il mio team all'interno dei miei profili e continuano a scrollare le home. Non mi interessa nulla. L'unica cosa che guardo è al massimo YouTube da persone, eccetera, per formarmi, per mangiare contenuto online. Quindi inizia un po' a ristringere il cerchio e portare valore all'interno della tua vita. Valore concreto, non dopamina di basso livello.